Forza la mano, no? E' dentro, non capitano. Ma non è a mano, non è a mano. E' dentro, non è a mano. E' dentro, non è a mano. E' dentro, non è a mano. Ma è dentro. Non è a mano. Non è a mano. Sei mai. Per fare ciò da questo mondiale da... ...frim, 10, diciamo, potessi... ...permi non ho fatto ma non ho risposto niente. Vuoi 30 minuti per noi. E' un po' di piedi del quartiere. E' un ruolo proprio più grave. E' un po' di questa cross che dirà... ...va a Noria. Quanto importante è il foglietto di gioco della generale. E' un punto non ti difendi in 4, 6, 4 difessore. Ti difendi anche in 5. E' il quartiere. I giochi in 5 esce da una fase difensiva magari complicata, difficile. ...di cinesi sotto pressione un giocatore. Un quartiere con queste qualità tecniche... ...diventa fondamentale per il trasmettere pari. Feduli. Controbo a Tegra. E' finta di Feduli. E poi c'è per cosa... E' troppo in ritardo... ...a ragione sociale. Ha ragione di Sperasferi che non ci ha creduto. Spunta adesso un numero di leadership. Troppo tardi. ... 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